Il 27 gennaio si è celebrato il Giorno della Memoria, il ricordo delle vittime della Shoah. Pronto quel giorno la sindaca della lega di Galda d'Aschiano, in provincia di Varese, ha pubblicato su Facebook un post riviniente volgare e offensivo nei confronti di una ricorrenza così importante ricca di dolore. Il problema è che la sindaca Bertuletti si era già espressa a favore di queste politiche distruttive ed estremiste. Il 10 marzo 2016 su Facebook aveva addirittura auspicato il ritorno del Duce. Io vorrei ricordare a Cristina Bertuletti che se lei oggi può parlare da sindaca democraticamente eletta, lo può fare grazie a quelle persone che 80 anni fa hanno sacrificato la propria libertà in nome di quella di tutti, compresa la sua.